Giuseppe Parenti ha annunciato di non avere intenzione di ricandidarsi nuovamente alla presidenza della Camera di Commercio di Piacenza. Guidando gli industriali e poi la Camera di Commercio, ho sempre anteposto gli impegni istituzionali a quali personali, ha detto. Credo sia arrivato il tempo per passare la mano. L'annuncio è arrivato questa mattina nel corso del Consiglio Camerale che ha approvato la variazione di bilancio 2015, un esercizio che si chiuderà con un disavanzo di 1.230.000 euro. L'avremmo previsto e quindi con la questione dell'export, con le riserve che abbiamo, in un momento così difficile di crisi era giusto investire così tanto sul territorio. Ovviamente dobbiamo stare sempre più attenti e restringere. Parenti non ha mancato di sottolineare alcune criticità, ad esempio il sostegno al sistema universitario e formativo. Il Politecnico ha presentato progetti che siamo stati costretti a bocciare per mancanza di risorse, ha spiegato. Ciò non aiuta sicuramente la loro permanenza a Piacenza. Abbiamo ridotto i contributi anche alla Cattolica, al Nicolini e alla Cherubini. Serve uno sforzo collettivo di tutte le istituzioni per fare in modo che queste eccellenze non svaniscano. Tra i punti salienti discussi oggi, prima in Giunta e poi in Consiglio, la Coppa d'Oro. Sarà consegnata il 9 ottobre tra i premiati il ministro Maurizio Martina. Sarà anche l'occasione quella di presentare in quella sede lì, dopo averlo fatto a Milano, il progetto del Museo Nazionale dell'Agricoltura che adesso si sta concretizzando sempre di più perché questi immobili bellissimi vengono in test, in proprietà al Comune e quindi assieme al Comune vorremmo vedere se riusciamo a fare questa presentazione. Tra le altre partite aperte è quella che riguarda la riforma delle Camere di Commercio. Per Piacenza esiste una concreta speranza di restare autonoma se, come sembra, saranno premiate quelle più virtuose. Infine è stata avviata la dismissione della partecipazione in Tecno Holding, stimata in 480.000 euro, e prosegue la vendita a pezzi di Imebep.